Si chiama la truffa del carrello e a metterla in atto erano un 26enne italiano di Castiglione del Lago e un pregiudicato trentenne cortonese che sono stati fermati dai carabinieri di Camucia. Il controllo è partito proprio mentre la truffa era in atto. Erano poco prima delle 20 nel parcheggio di un supermercato di Camucia quando i due stavano tentando di estorcere denaro ad una donna avendo simulato la collisione del carrello della vittima con la loro auto. La discussione non è passata inosservata agli occhi di alcuni testimoni che hanno allertato i carabinieri. I due truffatori vistosi scoperti sono scappati a bordo della loro auto ma la prontezza di uno dei carabinieri appena giunto sul posto con una pattuglia ha permesso di intercettarli dopo un breve inseguimento. Sottoposti ad un accurato controllo sono stati trovati in possesso di due scalpelli e un coltello. L'autista, il 26enne di Castiglione del Lago, era anche senza patente e sottoposto all'obbligo di soggiorno per questo è stato arrestato. Entrambi sono stati denunciati per i reati di tentata truffa e porto di oggetti atti ad offendere.